Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Il 14, il 15 e il 16 maggio sarò in Toscana nei principali negozi per una dimostrazione del Merch 5 M Live. Mi piacerebbe tanto conoscere gli amici del mio canale YouTube che vivono in Toscana e dintorni, quindi vi lascio gli appuntamenti se potete venite a trovarmi. Il primo appuntamento è il 14 maggio dalle 16 alle 19 al Clan della Musica di Grosseto. Mercoledì 15 maggio invece sarò sempre dalle 16 alle 19 a Music Gear di Sesto Fiorentino. Ultimo appuntamento giovedì 16 maggio sempre dalle 16 alle 19 presso Strumenti Musicali Menichini a Pistoia. Sarà un'occasione per parlare di questo meraviglioso prodotto e di scambiare due chiacchiere con chi segue il mio canale YouTube. Vi ringrazio sempre per il sostegno. Ci vediamo in Toscana. Ciao! 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 Ciao!